Un paio di risultati vistosi nella 22esima giornata del campionato di prima categoria Ligure-Girone E1 e quello registratosi alla storre Tanca a cui si riferiscono queste immagini e che ha visto l'Arcola Garibaldina rifilare un tennistico 6-0 all'antica Luni. Dunque finito il periodo di grazia, sembra proprio del fanalino di coda da parte sua l'Arcola è esattamente a metà della graduatoria. Per il resto esce in battuta dal Bertolotti dove ci trasferiamo con le riprese la Santa Renzina di fronte alla Bolanese. Pareggio interno a Sestri della capolista Sporting Aurora per 1-1 col Vezzano poi Castennovese intercomunale Beverino 1-2 Borgo-Focce Magra a Colle Ortonovo 0-1 Infine l'altro score molto vistoso e qui veniamo con le immagini al Franco Cim di Pagliari è il 7-1 che il Casarza Ligure ha Ivi in posto al Pegazzano. In classifica detto della vetta e dell'ultimo posto per il resto in zona play-off intercomunale Beverino, Ricco, Le Rondini, Casarza e Colle Ortonovo. In zona play-out Borgo, Vezzano, Pegazzano e Santa Renzina riposare il Ricco. Trasferendoci alla seconda categoria Girone G e con le immagini al pareggio per 1-1 alla Pieve Spezzina tra il Mamas Giovani ed Illuni con tale pari al Denis Pieroni. Illuni dunque si riprende dalla sconfitta di qualche giorno prima per 2-0 sul suo terreno nel recupero col Ceparana. Al comando Ivi sempre il Brugnato che si aggiudica per 4-2 la battaglia del gol sul suo rettangolo di fronte alla squadra B della Bolanese. Poi San Lazzaro Lunense, Romito, Magrauser 1-0 e Nave Spezzi a calcio popolare 0-1 riposavano a Megliese e Ceparana. Alle spalle del Brugnato in zona play-off ora come ora a Megliese, Romito, Spezia popolare e Ceparana.